Quando è buono il mio amore, quando è buono il mio amore, mamma ti mangia, buono, buono mio amore Tanti di voi mi seguite, insomma, ognuno per un motivo diverso, magari c'è chi mi seguirà per i cosmetici, per chi le ricettine di bellezza, per chi consiglia sulla fitness, sull'alimentazione O perché semplicemente mi sono simpatica con i miei vlog, eccetera, però dietro tutto questo c'è un fattore comune, cioè che sono io, la mia personalità, la mia persona Che è quella che sicuramente vi ha colpito, perché comunque io ho un carattere molto forte, in tante mi dite questa cosa Mi chiedete tanti consigli proprio, a prescindere su queste cose, ma proprio di vita E quindi ecco perché vi voglio dare dei consigli su come affrontare la vita, insomma, per farvi capire io come vedo la vita Perché comunque mi rendo conto che a differenza di altre persone sono un carattere molto, diciamo, ottimista, molto positivo, molto forte Quindi alcune ragazze invece magari tendono a scoraggiarsi Sì, non è che mi sia dietro di me, la vedete? Ma è carina E alcune persone tendono a scoraggiarsi, infatti mi chiedono consigli, ad esempio, sul bullismo, su varie cose E quindi vi voglio un po' trasmettere un po' della mia positività e farvi capire io come vedo la vita E come ho fatto a superare tante difficoltà e tanti problemi, tante batoste E come ho fatto a costruirmi, insomma, questo carattere, questa visione della vita, insomma, positiva Tra alti e bassi, ovviamente, non è che è sempre facile, neanche per me è sempre rose e fiori Però una delle domande che mi fate più di frequente è quella su come fare Magari se avete un canale YouTube, siete agli inizi Ci sono tante persone che mi possono buttare giù con le critiche, con i commenti Che poi questo si riflette anche nella vita Perché tante persone magari mi chiedono come fai a essere così positiva Capito le giornate in cui io mi abbatto con lo studio, con l'università, con il lavoro A causa di persone, a causa del mio modo mi piace, vorrei essere come te Spesso mi dite questa cosa, che sei sempre a Lega, sei sempre felice Queste cose qua Prima di tutto, se vi piacciono questi video, lasciatemi un bel like Perché ho intenzione di parlarvi anche dal punto di vista sentimentale, lavorativo Un po' proprio nello specifico Come io vedo la vita, come ho fatto a superare varie problematiche Ad esempio, una storia d'amore finita, tante cose E adesso però mi voglio concentrare su questa cosa Perché me l'avete chiesto davvero in tantissimo Come fai a superare le critiche Come fai io, addirittura alcune ragazze mi hanno detto Basta, a causa delle troppe critiche che ricevo Voglio chiudere il canale E quindi, dato che me l'ho dita in tante Allora ho pensato di fare questo video Uno in particolare, ultimamente me l'ha chiesto Se mi hanno domani, sta guardando questo video Non mi ricordo il suo nome Però siete davvero in tante che me lo chiedete Quindi perciò ho deciso di fare questo video E diciamo che io Non mi sono preparata una scaletta Quindi suppongo che verrà lungo questo video Perché comunque voglio proprio chiacchierare con voi Quindi vi chiedo scusa se magari Mi dilungherò Però ovviamente è necessario Perché voglio proprio parlare con voi Io prima di tutto Non c'è, è vero che sono sempre ottimista Sempre positiva, eccetera Però ovviamente anche io c'ho il mio problema Infatti anche su Instagram Di recente ho messo una foto Dove là vi ho detto Mi chiedete sempre come faccio A essere felice Sempre positiva A ridere, a scherzare Vi vorrei mostrare tutto il mio dolore Tutte le volte che io piango Tutte le volte che sto male Tutte le volte che mi sento sola Che mi sento Che mi manca qualcosa Ovviamente tutto questo Io non ve lo faccio vedere Però c'è Ovviamente c'è E alcune persone dai miei video Possono immaginare Perché io sono una persona Vuota Frivola Che dalla mattina Si da scherzo E ride E faccio E sono un imbecille Che poi non è tanto lontano Da realtà Però comunque C'è comunque un lato di me Che ovviamente soffro Ovviamente anche io C'ho problemi E non sto sempre felicissima Il fatto è che io Nella mia vita Comunque ho imparato A vedere le cose In modo positivo Ma non perché Perché la mia vita è bellissima La mia vita è una vita normale Ma a me Io mi accontento Insomma Delle piccole cose È un carattere un po' Particolare Che cerca di vedere sempre Il lato positivo Ecco perché Tante persone mi dite Ma come fai A ridere E scherzare Sei un imbecille Io me lo tengo Non mi interessa Magari pensate che Sono un imbecille E non è così Perché nella mia vita Sono una persona molto profonda Anzi Io odio I rapporti falsi Le persone false Le persone superficiali Odio I rapporti di finzione Allora le persone Non sono leali Non sono sincere Io le scarto Perché a me non mi piace La superficialità Mi piace comunque Avere rapporti sinceri Quindi niente Come superare le critiche Io Ricevo veramente Tantissime critiche E da quando ho aperto il canale Comunque era nel lontano Il 2009 Doveva essere Sì doveva essere Il lontano il 2009 Io ho ricevuto Critiche Polemiche Insulti Pesanti Su tutto quello Che può esistere Su di me Sulla mia persona Sul mio carattere Sulla mia famiglia Sui miei genitori Su mia sorella Su mio fidanzato Perfino sul mio cane Veramente su ogni cosa E persone Si sentono In dovere E in diritto Di giudicare La mia vita Senza Conoscermi E questa è una cosa Che mi fa girare Veramente Veramente Le scatole Sentire giudizi Di me Sulla mia persona Sulla mia vita Cioè che non sai Come ad esempio Anche sulla mia storia Ma su tante cose Tu non sai Non mi conosci Cioè neanche mia madre Si permette di darmi Le giudizi Me li vieni a dare tu Ma chi sei Ma chi ti conosce Insomma Questa è la cosa Però io All'inizio Che ricevevo queste critiche Questi insulti Eccetera È capitato Che io veramente Ci stessi male Veramente Mi mettevo là Perché poi sono una persona Che sono molto buona Non riesco a capacitarmi Della cattiveria A fine a se stessa E quindi capitato Dicevo Ma perché E c'è una persona Attorno a me Che veramente Mi voleva bene Che mi diceva Ma guarda Sono persone cattive Invidiose Sono persone così Ti devono smontare Fattene una ragione Esiste anche la cattiveria A questo mondo E io veramente Ci rimanevo Proprio proprio male Perché poi Commenti Insulti Detti Con una cattiveria Con una Una cosa proprio Di pungente Che tu dici Ma che tu ho fatto Che tu mi dici Ma che una cosa Dire una cosa Ma dai Ma forse Faresti Uno Io devo dire La verità Sono anche Cresciuta molto Con i commenti E con le Le critiche costruttive Ma anche nel quotidiano Ma magari Faresti così Starebbe Io Prendo tutti i consigli E tutto Però Ci sono persone Che veramente Trovano gusto A insultare gli altri Perché Io ho capito questo Andando proprio al sodo Che Purtroppo Ci sono Delle persone Frustrate Che Non sono Contente Della propria Abilità E a cui piace Proprio Criticare E passare il tempo A criticare Quella degli altri Ora Io Facendo questo Lavoro Fra virgolette Che Ovviamente Non riesco A giudicare Lavoro Perché per me È una passione Una cosa Che mi piace Tanto Che non riesco A giudicare Lavoro Però È un lavoro A tutti gli effetti L'altra faccia Della medaglia È questa qua Sono gli insulti Le critiche Quindi io Se faccio questo lavoro Devo accettare questo Perché comunque Fa parte del gioco Cioè io Devo Ringraziare Fra virgolette Anche quelle persone Che vengono Mi lasciano L'insulto E se ne vanno Perché comunque Anche loro Fanno parte Del pacchetto Insomma Non so come spiegare Però Come fare Ad accettare tutto questo Come fare Prima di tutto Io Penso che Il tempo Nella mia vita È molto prezioso E io non ne ho tantissimo Perché ovviamente Faccio miliardi di cose E questo lavoro Sempre fa virgolette Ti prende un sacco di tempo E ovviamente Se ho un po' di tempo Lo riservo A rispondere A commenti Infatti mi ci dice Sempre nei commenti Ah tu rispondi Solo a chi ti dice Sei bella Sei carina Sei tu fai complimenti Ma non perché io Non accetto le critiche Semplicemente perché Le critiche Gli insulti Ci passo su Perché preferisco Dedicare il mio tempo A chi Mi 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 segue Con affetto A chi mi lascia un commento Mi ha dedicato il suo tempo Mi apprezza Quindi preferisco Dedicare il mio tempo A quelle persone A chi mi vuole buttare giù Questa è la cosa Poi ovviamente È tutta una perdita di tempo Perché Ultimamente Mi è successa questa cosa Che appunto Vi volevo raccontare Ad esempio Nelle igistorie Mi è capitato Che pubblicai Un frammento Di un whatsapp Con mia sorella E voi tutti sapete Che c'è il correttore automatico Che ti correggia Adesso non so dove Praticamente Avevo scritto L apostro Invece di L apostro Fa H O Non mi ricordo Questa comunque Un errore grammaticale Che era stato ovviamente Il correttore Che poi più giù C'era la stessa frase Però detta bene Quindi era stato Il correttore automatico In quel caso In quel caso Avevo scritto così E mi sono stati Sti commenti Oltretutto Neanche sotto A quella storia Sotto al mio posto Su instagram Guarda che nelle storie Impari ad andare a scuola Non è che ti dico Guarda hai sbagliato A scrivere No Sei questo Sei quello Fai schifo Deversi studiare Non ti vergogni È scritto così E io secondo voi Mi dovevo mettere là A rispondere A dire ragazze Guardate c'è il correttore Automatico E quindi mi ha corretto Magari poi pubblico Un'altra cosa E posso passare La mia giornata Lavorativamente parlando Perché poi al di fuori Del lavoro Ho anche una vita privata Vorrei avere una vita privata Personale Con passione Altre mille passioni E mille impegni E mille cose sociali Con persone vere Secondo voi Il mio lavoro Posso passare a rispondere A poi un'altra Pomminazione La prima cosa E io metto a rispondere A quella Ci passo sopra Quindi questa è la cosa Ci passo sopra E quindi non Cioè C'è il correttore Oppure un'altra persona Sempre avevo Parlato della dieta Avevo pubblicato Il video della dieta E una persona Nei commenti Mi scrive Guarda io però Ti voglio dire una cosa Tu non devi dare Questi consigli sulla dieta Perché tu non sei questo Non sei quello E tutte cose Che mi facevano capire Che il video Non l'aveva proprio visto Perché io avevo aperto Quel video Dicendo Alto là Ragazzi Vi ricordate Io non sono una professionista A voi L'ho detto mille volte Al punto di sembrare Patetica Ripetitiva Rivolgetevi ad un professionista Fate come ho fatto io Fatevi fare una dieta Io non sto qua Per farmi una dieta Vi do dei consigli Dei dispunti Vi dico come faccio io Poi voi Vi dovete informare E voi dovete L'ho detto mille volte Tu te ne vieni E mi dici questa cosa Vuol dire che il video Non l'hai proprio visto E secondo te Io devo perdere tempo Che poi Io gli ho scritto un commento Qui ero tranquillissima Perché ormai Quando rispondo nei commenti O la prendo sul ridere Quindi ironizzo In modo sarcastico Perché poi sono molto Anche nella vita Tutti i giorni Mi piace molto ironizzare Quindi non me la prendo Quasi mai Quindi o non rispondo proprio O ironizzo Quindi come in questo caso Il mio tempo è prezioso Quindi non è che mi metto A sprega tempo Con una persona Che neanche si è degnata Di vedere il mio video Cioè qual è il rispetto Io ho fatto un video In cui io Comunque ci ho lavorato Ho fatto il video Ho impregato tempo Tu non l'hai neanche guardato Mi piazzellare il commento Così io devo perdere tempo A rispondere al tuo commento Quando tu non hai avuto Non mi hai dedicato 10 minuti della tua vita A guardare il mio video Dove c'è evidente Perché io avevo detto Come prima cosa quella Quindi e secondo voi Io mi devo mettere a rispondere A dire guarda Io l'ho detto Poi viene un'altra Guarda ma così E il correttore qua E devo passare la mia giornata A rispondere A questi commenti Di persone che Alla fine tanto di me Non si interessano Perché se no Almeno il video L'avresti detto Ah fammi decanita Cosa ha detto questo video E poi dopo Mi piace il commento Ok ci sta Quindi poi avevo risposto In questo modo Dicendo Lasciando questo commento In cui poi i toni Non si capiscono Ma io ero del tutto tranquilla Perché comunque Dicevo guarda Sono Semplicemente Non ho tempo Per rispondere a queste cose Guarda il video Perché si vede Che dal tuo commento Il video l'hai visto E da là E poi gli avvocati Quei suoi peggiori Gli avvocati difensori Ah si è stata Acida Si è stata scostumata A rispondere E io avrei dovuto passare La giornata davvero Perché poi queste persone Si rispondono Una parte o l'altra Io avrei passato La giornata A dire a ognuna di loro Ma guardate Tranquilla Basta Perché un certo punto E tu dici Vabbè basta E io ti risposto Ok ciao Ci vediamo domani No perché veramente Non Quindi tutto questo È per dirvi I commenti Vi vengono fatti Gli insulti Immaginate che Vi vengono fatti Da persone Che non sono Vostri familiari Non sono vostri amici Sono persone Che voi non conoscete Che non vi conoscono Che vedono Un'apparenza Di una cosa Quindi non sono Non hanno valore Non hanno valore Nella vostra vita Non ve lo sta dicendo Vostra madre Che Quella tale cosa Se questo Se quello Io penso anche Chi me lo dice Se me lo dice Un mio familiare Un mio amico Un mio fidanzato Una persona Mia sorella Non lo so Una persona che Per me Astima Che repito Una persona intelligente Prima di tutto Perché Per amocitare Ragazzi Di tal computer Ci può essere Con un bambino Di 8 anni Oppure ci può essere Una persona Scema Fra piccoli Esistono anche gli scemi Cioè una persona Che tu magari Nella vita di tutti i giorni Non ti rapporteresti Neanche Perché magari È una persona Frustrata Che non socializza Con Non ce la fa Non ci arriva E quindi Là Leggi questo commento Cioè che valore Gli dai a questa persona Nulla Quindi Se me lo dice Una persona Che io non conosco Così con la Non sai nulla Che tu mi giudichi Per me Non ha la stessa Importanza Nel suo valore Se lo dice Una persona Mi cara Quindi questa È la cosa Importante Delle persone Nella vita Ovviamente Provano Gusto Se non sono riuscite Loro stesse Ad ottenere Qualcosa A criticare Gli altri Quindi A criticare Gli altri A cercare Di affossare Gli altri Perché è una cosa Che io vi dirò La verità Io non capisco Perché io sono Una persona Molto Poi magari Ve lo parlerò In un altro video Proprio La mia missione Della vita Sono una persona Molto soddisfatta Molto felice Molto grata Questa è la parola Perché felice Non ho particolari Cose Nel lussuose Nel di vita Che mi rendono felice Però sono molto grata Cioè mi accontento Per me La salute Cioè le piccole cose Il cibo Stare in compagnia Delle persone Che voglio bene Mi fanno veramente Svegliare col sorriso Quindi io sono Una persona Molto appagata E poi faccio un lavoro Cosa è importante Questo lavoro Che a me piace tantissimo Che mi appaga tantissimo Posso mantenermi Facendo una cosa Che io amo fare Che io da anni Da quando ho iniziato Ho iniziato per gioco Perché piaceva E mi appassionava Ed è diventato il mio lavoro Quindi per me Questa è una cosa grandissima Fai tutti i giorni Quello che ami Lavora facendo quello che ami E non lavorerai In un solo giorno Della tua vita Questa è la mia massima Cioè non mi sento che lavoro Perché comunque Lo faccio con amore E con passione Anche se faccio le nottate A compiuto Fino alle 6 di mattina Sto facendo una cosa Che amo fare Che mi piace E quindi non mi pesa Quindi io sono molto soddisfatta Di vari ambiti Della mia vita Quindi non provo gusto Davvero Non ho frustrazione Non provo gusto Ad affostare gli altri Anzi Io cerco sempre Di incitare Di incitare Di stivolare gli altri No? Ad esempio con mia sorella Ma mai Ma guarda Che così Quindi non capisco Come nei commenti Le persone possono essere Così incattivite Acide Veramente Nei confronti della vita E degli altri Io ad esempio A volte Anche non nei miei video Nei video di alcune ragazze Che magari sono agli inizi Come queste che mi hanno scritto Provo veramente Un senso di tenerezza Cioè veramente Nel momento in cui vedo una ragazza Che magari Dico Ma chi di queste cose così cattive Ecco non mi ci sto mettendo Neanche io Però ragazze Che sono all'inizio Proprio che Veramente mi dicono Guarda voglio chiudere il canale Non ce la faccio più Troppe critiche Non lo dovete fare Perché voi così La date vinta a queste persone Questo non è altro Che cyberbullismo Io ne ho subite tantissime Ho visto Veramente Persone che Valgono zero Proprio nella vita In tutto Farsi grandi Parlando male di me E fare Tanti soldi Parlando male di me E veramente Con una faccia tosta Che avrei dovuto Veramente Avrei potuto Potrei ancora Tutt'ora Farvi veramente male Dal punto di vista legale Eccetera Però io sono una persona Molto Molto anche comprensiva Cioè nel senso che Capisco che Ci sono degli interessi Ovviamente Anche Per parlare male Qua su youtube Eccetera Però C'è anche C'è anche un limite A tutto questo Nel senso che Devo parlare male Di una persona Devo fangare una persona E devo Comunque Fare delle cose Molto molto cattive Ma veramente Molto cattive Che veramente Preferisco Non dire Non dilungarmi No Non Assolutamente No Perché comunque Secondo me Tutto nella vita Si paga Tutto si paga E bisogna avere Comunque la coscienza pulita È una cosa brutta E comunque Al di là della videocamera Ci sono delle persone In camere d'ossa Quindi questo bisogna capire Voi comunque ragazzi Non lasciatevi buttare giù Veramente Da chi vi vuole abbattere Dovete essere forti Dovete essere Dovete Non considerare Veramente non considerare Gli insulti E le critiche Di persone Che Veramente Lo fanno come un passatempo Cioè Lo fanno veramente Come un passatempo Con uno scherzo Magari sono le stesse persone Che se mi incontrano Per strada Cioè Non gli date Veramente Cento litre in mano Che sono persone Comunque Stupide Vuote Quindi non date valore Rendetevi conto Che veramente Detro commenti Ci sono stati pure Ragazzini di 7 8 anni Voi magari Vi fate cambiare La giornata L'umore Per che cosa Per il commento Di una persona Che non vi conosce Che magari C'ha 8 anni Oppure magari Un cretino Scusatemi il termine Quindi Veramente Non ne vale la pena Ricordatevi Che Fare video È bellissimo Veramente È una cosa bella Che tu puoi comunicare Puoi condividere Eccetera Però Dovete sempre Tenere conto Che Non è La vostra vita Cioè Le persone Con cui voi Parlate Che comunque Vi lasciano i commenti Non sono la vostra famiglia Non sono i vostri amici Non sono Non è il vostro fidanzato Quindi Ci sta Non si può piacere A tutti E quindi ci sta Io La mia preghiera La mia speranza È quella che Magari un giorno Internet Non verrà utilizzato Più per Per Sfrenare le proprie frustrazioni Che molto spesso Una valla di sfogo Persone che nella vita Tutti i giorni Non hanno le palle Di affrontare gli altri Di dire le cose in faccia Di affermarsi Anche lavorativamente Socialmente In tutti gli ambiti Si sfogano in questo modo Quindi Che però Nella vita Tutti i giorni Sono delle nullità Quindi voi ve la pigliate Queste cose Cioè ma dai Quindi io Spero che un giorno Non verrà utilizzato più così Non dovrò leggere Commenti Ma non sono Tutti i miei video Su tutti i video Anche di altre ragazze Che fanno video su youtube Io ci rimango molto Molto male Soprattutto quando sono Le donne A insultare A criticare Brutalmente Come chissà Uno che t'avesse fatto Per cose proprio assure Sempre Mi ricordo Uno degli ultimi vlog In cui io avevo rotto Quella ciotolina Eccetera E veramente Mi è stato lasciato Un commento In cui mi si diceva Sei una merda Fai schifo Se sei una merda Fai schifo Perché tu hai rotto Questa cosa Non hai valore dei soldi Ma ragazzi Ma cosa ne sapete voi Io se ho valore dei soldi Nella mia vita Se mi piace fare regali A chi ne ha bisogno Se faccio della beneficenza I miei genitori Sono di famiglia umile Sono sempre state poveri E veramente Sono fatti in mazzo Così per studiare Per farmi studiare Cosa ne sapete voi Io cosa mi dovrei mettere a dire A spiegare queste cose Ma pensate pure Che io sono un imbecille Che vado spendendo i soldi Di mamma e papà Che non è mai stato così Ma mi sono sempre guadagnata tutto Pensate pure questo Cioè Voglio dire A me non interessa Perché io sono proprio un carattere Che sono così Sono molto positivo Quindi Do molta più importanza Ai commenti positivi Eccetera Che a commenti negativi Che sono così Io vedo sempre tutto positivo Su quelli negativi Se proprio vi fanno stare male Se sono proprio insulti pesanti Non perdete tempo Fate come me Cancellate e bannate Perché il ban esiste Perché deve essere utilizzato Se no youtube non ci dava Lo strumento del ban Le rompi scatole Devo essere bannate In mazzo E vedo che una A volte proprio lo stesso nickname E una e due E tre Cioè raga Tu passi le giornate A criticare Insultare E anche per il bene Delle persone che mi seguono Molte persone che mi seguono Che io Con cui sono diventata Anche amica Questa cosa bella La vita del tuo giorno Mi dicono Non ce la faccio più A leggere Quella ti ha detto quello Quella ti ha detto quello Rimangono male Rimangono male Per le cose che mi dicono E quindi io vado Elimino Blocco E ciao E amen E quindi così Invece su tanti altri Do di la verità Sono come riesco adesso A prenderla in modo ironico A scherzare A comunque Ad esempio Come si dicono Delle battute In modo ironico Anche un po' pungenti Però io comunque Ci passo super E ho imparato a riderci Insomma non me la prendo Veramente me la prendo Per poche cose adesso Perché ho fatto Un po' una corazza Attorno a me Questa corazza Se non avesse avuto Questa corazza Io veramente il canale L'avrei chiuso Veramente nove anni fa Perché ho ricevuto Insulti e critiche Da Veramente su ogni aspetto Della mia vita Ed è Una cosa per esempio Che io non tolloro Ancora adesso Non ma penso che mai Tolorerò E quando si parla male Si criticano I miei affetti Quindi la mia famiglia Ad esempio Mia sorella La mia famiglia I miei genitori Oppure Quello che era il mio ragazzo Comunque rimango male Perché comunque Sono una persona A cui voglio bene E che sei tu per giudicare Quindi Se è una cosa Non volete che vi sia giudicata Non la mostrate Se una cosa vi fa male Cancellate il commento Bloccate la persona Tranquillamente E tenete sempre conto Che internet Non è la vita reale E può sembrare strano Perché io sono reale Io sono fatta di carne ed ossa E vi posso assicurare Che tutto quello Che io mostro E che dico Sono veramente io Cioè voi se mi incontrate La vita di tutti i giorni Io sono così Sono pazzarella Sono scherzosa Mi piace divertire Mi piace giocare Sono esattamente così Come voi vedete nei video Quindi non ho filtri Con la video camera Non sono le altre persone Ma io non Cioè sono veramente così Non mi Anche nei vlog Cioè io sono proprio Tra come sono Nella vita reale Mi sono reale Però Internet non è la realtà Cioè internet non è la realtà Perché comunque Non sanno tante cose di me E comunque io non vedo In faccia le persone Che mi commentano Perché sfido dunque La vita di tutti i giorni A me viene faccia a faccia Ad insultarmi E a dirmi delle cose Così pesanti Su di me Sulla mia vita Sulla mia famiglia Sulla mia casa Sulla mia casa Su qualsiasi aspetto Della mia vita Ma io Ho raggiunto quella maturità Che comunque non Ecco non mi scaldo E vi dico la verità Spesso ho talmente Una vita così piena Di cose da fare Impegni e passioni Che vanno all'ilà Anche di Dei youtube Dei cosme C'ho tantissime passioni La palestra Ho tante passioni Che Spesso non Tante critiche Tante cose Io non le leggo neanche Perché comunque Veramente Il tempo è prezioso Quindi Preferisco Ecco Aver fatto questo video Aver dedicato Questo tempo Ad aiutare Spero di avervi dato La forza La carica Con le persone Che magari Si sentivano sconfitte Per dirvi Prima di tutto C'è chi sta peggio di voi Ragazze Che veramente Riceve Insulti Di ogni tipo Su ogni cosa Veramente Su tutto Perfino Su che mutande Mi metto Che Qualsiasi cosa Quindi sentitevi Veramente incoraggiate C'è chi sta peggio di voi Su youtube Italia E ovvero io E Secondo di tutto Date importanza A chi davvero è importante Quindi A persone sconosciute Che non vedete E Tutte le altre persone Che offendono Che criticano Eccetera Per favore Chiudete il computer Andatevi a fare una corsa Una passeggiata Andate a trovare il fidanzato Prendetevi un cane E Dategli da vivere Così vi create un hobby Una passione Un bel cagnolino Da cutire E non rompete le scatole A noi Che vogliamo vivere Essere felici E fare quel che cavolo ci pare Insomma Questo è tutto Nel mio carattere Sono una persona Che poi È proprio capatosta È determinata Cioè è difficile Che una persona Riescia a buttarmi giù Perché comunque sono E anche Anche questa esperienza Su youtube Mi ha reso ancora più forte E più determinata Di quello che era prima È una sfida Io ci devo riuscire Quindi assolutamente Non mi farei mai Mettere i piedi in testa A battere da nessuno Mi raccomando ragazzi Forza 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 Sono qua per voi Mi raccomando Lasciatemi tanti commenti Se magari Volete che io Faccia un altro video In cui rispondo Più dettagliatamente Alle vostre domande Eccetera Sono a vostra disposizione Davvero Coraggio Non vi abbattete Non lasciatemi abbattere Da chi sicuramente Non è neanche una briciola Di quello che siete voi Perché molto spesso Queste persone Soprattutto quelle che giudicano L'aspetto estetico Io a volte Mi giudico L'aspetto estetico Vado a vedere Sono dei gabinetti Veramente E' vero che Anche io Non mi reputo bella Comunque anche io Mi reputo Insomma Quasi passabile Però vado a vedere i commenti Dico Mi aspetto Una bella figura Bellissima Dico Cavolo Mi hai detto che sono cesso Però è vero Sei bellissima Cavolo Non posso dire nulla Perché sono sincera No E quindi dico Oppure persone Che ti criticano Magari per aver messo Una foto Magari Un minigone Il costume Eccetera Che vergogna Che Ah questo E' una cosa Proprio fuori dal mondo Vai a vedere le loro foto E le vedi proprio Mezzelude Dici Oddio ma come Si è scandalizzata Nella mia foto Quindi assurdo Quindi ragazzi Forza 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 Vi vorrei fare Anche un video Su come affrontare Magari una rottura Sentimentale Anche un video Su come faccio io A essere felice Come vedo la vita Come sono fatta io Come faccio Ad affrontare Le difficoltà Ad essere Sempre positiva E felice Insomma Cosa mi rende felice Eccetera Vi mando un bacio grande E ci vediamo Al prossimo video Ciao Lasciatevi tanti like Grazie a tutti Grazie a tutti.